Prima viene eseguita lentamente e poi verrà applicata realmente. Prima viene eseguita lentamente e poi verrà applicata realmente. Poi usano il tempo e tecnica a puntualità dell'economia e dell'interno. E' una persona effettiva. In un primo tempo sua persona fa un racconto di comito due volte. E questo è come tecnica a nostra sentire di conoscenza. Quando l'avversario diviene ancora un colpo di benfaiuti alla tempia. Grazie. 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 Grazie.